...di premiazione della stacchetta 4 per un giro uomini per la restituta da Presidente regionale del cuore, Fabio Sturani. Prego le progettate di salire sul podio. Grazie a tutti. Allora, al sesto posto, Carabinieri Bologna, Mainini, Gallenti, Dalocca, Turchi. Grazie a tutti. Allora, al quinto posto, Isis Pinte 2000, Luciani, Giacinchi, Pelizzoli, Barcella. Al quarto posto, la studentesca cassa di risparmio di Rieti, Proietti, Bicca, Valentini, Sciabra. Allora, consigliere Alberto Gatto, consigliere Marchigliano. Grazie. Grazie.